Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video quest'oggi come avrete visto dal titolo e dalla copertina andremo a vedere i miei acquisti al pescare show che in particolar modo quest'anno sono stati relativamente pochi rispetto agli anni scorsi però però cose molto interessanti e particolari adesso andremo a vedere dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti dato che gli scorsi anni sono andati sempre bene superiamo anche stavolta i 120 mi piace per questo video dunque ragazzi non perdiamo altro tempo e via con la sigla dunque direi di partire subito con lo spinning con lo spinning ho un'esca per lo spinning generale diciamo e basta però una signora esca abbiamo qua una swimbait della Ilex floating adesso la tiro fuori è una signorina swimbait guardate che colori e che dettagli misura 13 cm e pesa 45 grammi com'è che si moda? ok questa è floating ed è importante che sia floating per me e soprattutto ci ho messo un bel po' a scegliere la colorazione perché ho bisogno esattamente di questa colorazione qua in particolare che ricorda molto la scardola e il carassio soprattutto il carassio potete vedere questa colorazione qua è proprio ricorda un carassio perché? allora questa swimbait ha tre obiettivi principali il luccio il perk e il bus e semmai lo striped mi serve floating perché? per il luccio in particolare perché lo scorso anno la maggior parte degli attacchi li ho avuti vicino alla superficie e il fatto che questa salga in superficie è il fattore chiave per me per quanto riguarda il luccio e soprattutto la colorazione naturale è quella che ha fatto più danni questa qua racchiude tutto in più ha un movimento veramente veramente eccezionale sotto anche un anellino per aggiungerci peso e farla lavorare più giù sul fondo e quindi anche per i perk però ho intenzione di fare grandi cose con quest'esca dopo di lei ho un'altra esca da spinning però dedicata al luccio un'esca che l'anno scorso è diventata famosissima per chi ha seguito fly vs jerk e l'esca in questione è il mirror's mouse questo bestione da 95 grammi slow seeking dotato di doppio grab diciamo l'ho trovato in tre colorazioni però quella che mi sembrava più adatta alle mie esigenze è questa colorazione che ricorda un po' il persico un po' il luccio per andare alla ricerca dei grossi lucci questa esca per chi non la conoscesse è famosa perché muove molta acqua con questo davanti qua e con tutto il backtail è praticamente un l'evoluzione di un backtail jig viene già fornita dei trailer in più si può cambiare però conoscendo come si muove quest'esca e conoscendo i lucci che frequento diciamo so già che avrà le movenze perfette per prendere un big speriamo in un gran bel pesce su questa la pesca mosca quest'anno mi son voluto decidere e voglio dare un pochino più di spinta alla pesca mosca soprattutto a pesci come il perca come il reale e soprattutto in posti che prima non potevo fare per esigenze di spazio che non mi fornivano al lancio però lo andrò a utilizzare anche a striped il laghetto bass allora partiamo dalle esche ho preso un po' di esche prima partiamo dalle piccoline ho preso tutte mosche secche in questo caso la prima è questa molto piccolo un pezzo di foam e questa colorazione molto naturale che però mi serviranno anche per cavi dani eccetera eccetera la seconda è questa che sempre secca ricorda anche il pellet per le trote però per i cavi dani questi sono caramelle abbiamo inoltre questa qua ancora più piccola grande come un pezzo di pellet che sembra quasi una formica come vedete sono molto veloce tanto con queste abbiamo poi lei sempre per cavi dani e trote quest'anno vorrei provare andare a fare anche trota in torrente con la mosca infine la versione più piccola di quella di prima eccola qua passiamo al naturale ho trovato questa che per i cavi dani quest'estate sarà la la caramella principale la naturalezza di quest'esca che dovrebbe essere una una lucciola se non mi ricordo male è spaventosa guardate che realistica su pesci apatici fa paura abbiamo la prima libellulina per i bass e per i cavi dani guardate qua seconda libellula questa senza ali però ha questi filetti che vanno a compensare è un pochino più compatta che magari quando i cavi dani danno troppo sulle ali e sono sospettosi questa va bene però anche a bass ci sta poi popper per basse e cavi dani popperino anche non proprio piccolissimo che però mi servirà molto quest'estate poi abbiamo tre salmon egg due gialli e uno rosa quelli gialli mi servono anche per le carpe oltre che per le trote e soprattutto perché ricorda un granello di mais che ho in modo di intingerlo di dargli un po' di sapore perché so dove trovare delle carpe grosse e avrò modo di farle mi sono attrezzato un po' per perca reali striped bass con questo super streamer doppio amo volendo volendo anche seabass poi ho preso anche dei flotterini che mi servono a trote perché ho notato che senza di questi se si va a pescare a lungo e si va tanto in profondità si perdono delle mangiate perché non si riescono a vedere solo seguendo la coda soprattutto quando si ha tanto terminale e il flotterino serve molto poi abbiamo del backing e avrete già capito un po' da 15 kg di più non penso che mi servirà prendere un pesce che vada a rompere un backing da 20 kg cazzo un luccio questa coda 8 roll cast che è già floating è già qualcuno qua ci avrà la puzza sotto il naso penultimo penultimo oggetto abbiamo un mulinello mulinello non di marca avevo bisogno di un mulinello semplice non pagarlo tanto perché tanto con la canna che ho preso non mi servirà tanto il mulinello è un mulinello per coda 8-9 mulinello semplicissimo da mosca un semplissimo mulinello da mosca pomello in plastica molto minimal nero semplice e leggero soprattutto infine abbiamo la canna in particolare abbiamo la steel water competition 10 piedi coda 7-8 e 4 pezzi qua abbiamo la prima sezione di canna guardate che bellezza appena l'ho vista mi sono innamorato l'ho trovata in un buon prezzo adesso andrò a montarla in due pezzi perché veramente grandi 10 piedi sono veramente tanti il primo pezzo con due anelli uno e una due per farvela vedere qua e qua poi abbiamo la punta questa mi servirà per pescare in città a perca tipo adria eccetera eccetera reali perca lanciando roll per la punta un'azione abbastanza veloce più potrei provarla a spigole e nel caso di viaggi chi lo sa chi lo sa potrei fare veramente tante cose con questa canna poi ho intenzione anche di farci carpe in certi posti dove il roll è l'unico lancio che posso fare ma carpe veramente veramente grosse parlo di oltre 5 chili la più piccola eccola qua guardate che splendore veramente veramente bella dunque ragazzi spero che il video di oggi vi sia piaciuto quest'anno più qualità meno cose però più qualità dunque mi raccomando ragazzi preparatevi per i prossimi video queste cose cercherò di testarle il prima possibile adesso non vi so bene dire quando però a breve vedrete i video dunque mi raccomando ragazzi lasciate like superiamo questi 100 like per questo video mi raccomando dunque condividete anche il video e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti direi di aver detto tutto quest'oggi per questo video è tutto ciao a tutti